E dice, allora quando lo intervistano, era stata un'inchiesta condotta da un operaio, Franco Alasia, dal sociologo Danilo Montali, pubblicata nel 1960. E allora c'era questa testimonianza di questo Nino, 24 anni. Ho fatto fin dall'età di 8 anni il mestiere di venditore ambulante, in salumi, salami, sgombri, alici, sapone, di qualsiasi cosa. Ho lavorato a padrone da 8 anni fino a 15 anni, sempre lontano dalla famiglia, quando capitava per 6 giorni, quando 8, quando un mese. Anche un anno sono stato lontano da casa. Di notte doveva dormire con il cavallo che tirava il carretto e svegliarsi per dargli la biada, altrimenti erano frustrate. Scrivo io, il suo italiano è quello sgrammaticato e dialettale dell'analfabeta. Ho partito una volta che mia mamma piangeva, a partire sotto la neve, a 8 anni con un cappottino addosso, andando verso Foggia. Le bestie scivolavano sulla neve con il carro, e il padrone picchiava me. Per la rabbia che scivolavano picchiava me, ma io facevo quello che potevo perché ero piccolino. A scuola non ci sono andato perché mio padre era in galera, e io lavoravo per aiutare la mamma, perché ci avevo un altro fratellino che aveva 2 anni e basta. Concludo, non sappiamo che fine abbia fatto Nino, ma il suo non è un racconto ottocentesco di Dickens. Se fosse ancora vivo, e me lo auguro, sarebbe coetaneo di Silvio Berlusconi. Quindi, non stiamo parlando di qualche cosa, di ci sai, vi racconto cosa succedeva nel Medioevo in Italia. Queste erano storie del nostro passato, e quando uno legge le storie del nostro passato, degli emigranti, e le paragona con le storie degli emigranti che arrivano oggi, le condizioni non sono molto differenti. Allora, che cos'è che però faceva sì che questo Nino, arrivato poi a Milano e riusciva a sposarsi, avere un figlio, che cosa faceva la differenza? Che nella sua sofferenza, nella sua fatica, vedeva magari il figlio o la figlia che non erano alfabeti. Andare alle scuole elementari, andare alle scuole medie, aveva una speranza di miglioramento, di miglioramento culturale, sociale, di miglioramento economico. Questo era quello che faceva la differenza. Oggi questa sensazione non c'è, oggi i genitori pensano che di fronte a loro, che i figli faranno fatica. Hanno paura del precariato, sanno quante famiglie vivono dei risparmi dei nonni, e allora vedono in questo senso un declino del Paese. E questo è un dato vero. Poi mi fermo perché sto parlando troppo. Ma c'è un punto che io però dico, e qui parlo a quelli poi, al secondo tipo di lettere ai ragazzi. Non è che è scritto da nessuna parte che uno che ha vent'anni oggi è condannato al declino, è condannato a rinunciare, è condannato alla precarietà. Perché poi il futuro è nelle mani di ognuno di noi. Le possibilità sono nelle mani di ognuno di noi. C'è una lettera di una ragazza che mi dice io sto studiando cinema. Studio cinema e però vorrei abbandonare. Sono appassionata, vorrei fare la sceneggiatrice. E poi però penso che ormai in questo Paese si tagliano i fondi della cultura, non si crede nel cinema, non si crede nell'arte, non si crede nel teatro, per cui è tempo perso, tanto vale che io abbandoni e vada a fare la telefonista in un call center. Naturalmente è una provocazione. Però il punto è che sempre più persone dicono ma è inutile studiare. L'abbiamo visto, l'abbiamo visto che negli ultimi, se non sbaglio, tre anni il numero degli iscritti all'università è in calo in Italia, declina. Perché sta passando questo messaggio che è tanto studiare inutile, che non serve. Salvo poi scoprire che se guardiamo, che forse certamente nel momento in cui a parità due venticinque anni, uno che non ha studiato, non ha fatto l'università e uno che l'ha fatto, nel momento, nell'anno successivo all'uscita dell'università quello che non ha studiato è più occupato di chi ha studiato. Certo, ha avuto cinque anni di tempo per trovare un posto di lavoro. Ma se noi guardiamo nei successivi cinque anni, andiamo a vedere quando ne hanno trenta, il tasso di occupazione, il livello di stipendio di chi ha studiato è superiore. E quindi studiare è ancora un investimento, ma adesso invece va un po' di moda dire ma no, che tempo perso, che è inutile, distruggendo le prospettive di una società in maniera devastante. A quella ragazza gli ho risposto che non deve dimenticare una cosa. Nei prossimi vent'anni noi di bei film ne vedremo ancora tanti, spero, e ci sarà qualcuno che li scriverà questi film, ci sarà qualcuno che li sceneggerà. Di bei libri ne leggeremo, di buon teatro andremo a vederlo. Allora ci sarà qualcuno che li scrive. E allora gli ho detto, sta a te decidere, se vuoi essere tu una di quelle che scriverà uno di quei bei film che andremo a vedere, uno spettacolo teatrale, perché qualcuno lo farà. Non è che la nostra società adesso ha finito, ha smesso, non si farà più niente, non si scriveranno più libri, non si faranno più giornali, non sarà più informazione, non ci sarà più nessuno che inventa un vaccino, piuttosto che una cura o un computer. Il punto è che dobbiamo crederci, provare ad esserci, perché se pensiamo che il futuro non esiste, che siamo già condannati, sicuramente non andremo da nessuna parte.